febbocaff favorito in chiusura di contrattazioni contro favorito freewheeling run mancano poco meno di 100 metri lo stacco della macchina con febbocaff che dall'esterno prende un gran lancio in poche battute si installa al comando alle sue spalle freewheeling run davanti a favignana clan quindi febbocaff che in poche battute mette tra sei avversari almeno una ventina di metri e bocca così già in solitaria la prima curva febbocaff leader paletto dei 400 metri che ci dice che percorso in 28 e qualcosa 29 1 per la precisione freewheeling run segue sempre a distanza a precedere fei tunes favignana clan e faraway viking si va sulla retta opposta d'arrivo 600 metri iniziali in 44 e 7 vantaggio che non cala fei tunes invece si avvicina freewheeling run gli altri seguono intervallati cala un po il ritmo sulla retta di fronte ma a metà gara si arriva in 1 1 e mezzo freewheeling prova ad agganciare ma ancora è lontano fei tunes favignana e faraway king nel frattempo si raccolgono alle spalle del battistrada che arriva al chilometro in 1 16 e 9 prosegue la marcia in avanti di febbocaff freewheeling va a caccia prova ad avvicinarsi ma per il momento resta parecchio lontano dalla battistrada gli altri seguono in rigorosa fila indiana nessuno riesce a mettere la testa in fuori per il momento con febbocaff che imbocca la retta arrivo in assoluta solitudine anzi in questo momento il vantaggio si incrementa ancora di più e la lotta è sola per le piazze con febbocaff che ai 200 finali è netto saldamente leader padrone assoluto della corsa per la seconda moneta emerge fate tunes su freewheeling run favignana clan febbocaff conclude il suo sforzo alla media di 2 1 un filo abbondante siamo nell'ordine dell'1 15 e 8 il successo di febbocaff i colori della super fantastica training e guida di gasparo verde sul fio di napoleon bar che finalmente dopo diversi piazzamenti si toglie la qualifica di minor 43 9 per gli uti 600 metri al secondo posto emerge una buona febbocaff a battere freewheeling run per un arrivo che detta 5 al primo posto 2 al secondo 4 al terzo cavalli che sono pronti allo stacco 100 metri si parte dall'esterno prova la partenza elettra bright ma al suo interno sono più veloci erenio mais e etienne griff forse tempi elettra bright i 200 metri iniziali in 3 16 elettra bright di galoppo troppo mentre stava per sfilare davanti a etienne griff elton laxby rimonta in seconda posizione renio mais quindi eden jet numero 6 squalificato resta davanti etienne griff elton laxby secondo a difende la posizione da renio mais quindi eden jet gli altri numero 5 squalificato è fuori corsa con il silgaia che va a tabellone i 600 metri iniziali in 43 7 il galoppo di elton laxby numero uno squalificato e così etienne griff ha nella sua scia eden jet a largo erenio mais gli altri veramente a distacchi abissali o squalificati un minuto un filo scarso a metà gara con e renio mais che a largo prova ad agganciare etienne griff che per il momento sta numero uno sta facendo corsa al proprio conto il chilometro in 1 e 15 spaccati con etienne che adesso allunga renio mais che è sceso alla corda davanti a eden jet quindi al tolac per esterno ma che è squalificato gli altri fuori corsa etienne griff aumenta i colpi della sua andatura e così il vantaggio aumenta aumenta l'ingresso e il diritto arrivo saranno almeno 40 metri tra sé e renio mais che è il secondo ancora più lontano per il terzo posto eden jet etienne griff ha fatto corsa per il proprio conto è andato davanti ha graduato e poi ha staccato si trova così a vincere nel più facile modi questo premio solarino per il secondo e renio mais precede ancora il 2 di erga omers par se è rimasta se non è squalificata in ogni caso 1,58 e mezzo siamo nell'ordine dell'1,14 44 per gli ultimi 100 metri è stata una marcia di trasferimento per etienne griff colori e guida il signor piero cucinotta training di giuseppe zanca al secondo posto conclude il numero 4 di renio mais mentre per il terzo dovrebbe essere il 2 di erga omers par quindi 3 al primo posto 4 al secondo 2 al terzo l'arrivo assolutamente ufficioso della seconda da siracusa galoppo di frido cam prima del lancio galoppo anche di flashback kb e si parte foglia d'oro all'interno prova a mantenere la leadership dall'attacco di firewood su mill ripiega terzo freeway run davanti a forapax firewood su mill ripiega iscia a foglia d'oro dark 3,17 e lancio foglia d'oro vuole a farsela di testa e così è firewood su secondo davanti a freeway run fosca pax poi ad inseguire frido cam fuori corso ormai flashback kb cavali affrontano la prima curva i 400 metri se ne vanno in 28,6 con foglia d'oro che prova a fermare un po' il ritmo della gara con firewood su che adesso è proprio la tampina da vicino 44,7 e 600 metri intensa posizione sempre freeway run poi flora pax che mette la testa in fuori probabilmente verrà anticipata da freeway run si va piano in questo quarto tanto che a metà gara si arriva in 1,1 e 3 frazione in 16,4 con flora pax che ha scavalcato la resistenza di freeway run e si porta ai fianchi di firewood su mill chilometro di foglia d'oro in 1,16 e 9 va ancora in mano salvatore cintura flora pax fa sentire la sua presenza a largo anche se fa una piccola difesa e così dà la destra libera firewood su mill che è seguito da freeway run i cavalli fanno ingresso indirittura ad arrivo con foglia d'oro che con l'appoggio della corda prova da lungo da firewood su mill che al suo esterno insiste quindi freeway run e flora pax all'interno foglia d'oro a largo firewood su mill e un testa a testa da due con firewood su mill che sembra poter prendere la meglio e lo fa ai 150 finali poi dietro avanza anche freeway run ma firewood su mill ha preso la meglio e sopravvento ai 50 finali e si impone a freeway run foglia d'oro e flora pax 2,3 sul mio cronometro siamo nell'ordine l'1,167 il successo di firewood su mill i colori della maga a fe gaspara verde al trading alla guida al doppio in giornata col figlio di con la figlia di varen al secondo posto freeway run prende la meglio su foglia d'oro dark 4,58 la quota di firewood su mill 3,4,1 e l'arrivo dalla terza da Siracusa cavalli allineati per entrare dentro i nastri di partenza secondo nastro perfetto bene anche il primo nastro si va in fondo alle gabbie per la giravolta partenza valida la prima subito buona il più veloce allo stacco della macchina scusate alla partenza da fermo è il numero 2 di Verdi Prav il primo 200 metri in 17 davanti Cannibal Fi invece su Boss FKS S in terza posizione Zolder Op a precedere Verdi Prav i quattro prendono un po' di vantaggio dagli altri concorrenti che sono in una lunghissima fila indiana i primi 400 metri se ne vanno in un lento 33 Cannibal Fi sempre a precedere Boss FKS Zolder Op e Verdi Prav si ricongiunge Bawi viene subito a largo invece da Mita di Venere anticipata prontamente da Verdi Prav che però la fa passare e può poi prenderne la scia 800 metri iniziari di Cannibal in 1 3 e 3 da Mita si trascina Verdi Prav poi ancora Dulce De Lece quindi Donato a chiudere Aleuron e Donnemo a Glori Cavalli imboccano la penultima curva primo chilometro in 1 19 1 Cannibal Fi adesso è attaccato da Damita di Venere Boss FKS sempre in seconda posizione a precedere Zolder Op ritmo che aumenta 14 2 di frazione 1 33 3 questi 200 metri con Cannibal che a lungo è deciso Damita resta comunque lì a traccheggiare al suo esterno chiudendo in corda Boss FKS Verdi Prav affianca la compagna di training poi Zolder Op via via tutti gli altri 1 48 e mezzo per i 1.4 posizioni che non cambiano Cannibal resta davanti Damita di Venere prova al suo esterno con Verdi Prav che si lancia in terza ruota il miglio coperto in 2 4 un filo scarso con Damita che lascia il passo a Verdi Prav quindi è un discorso da Cannibal e Verdi Prav di dentro Boss FKS quindi Zolder Op ancora donato al centro della pista Verdi Prav ripiega in scia a Cannibal FI lo scatto di Zolder Op dalla quarta posizione si lancia al centro della pista seguito da Bawi Cannibal FI è sempre davanti Verdi Prav prova a uscire dalla sua scia per andarlo ad attaccare Cannibal FI ha preso la misura di distanza a tutti per Vienterno e Boss FKS all'acqua di tutti Zolder Op e Bawi ma Cannibal FI non si batte Zolder fa seconda su Verdi Prav Bawi e Boss FKS 2.47 un filo abbondanti siamo nell'ordine dell'1.15.9 su 2.200 metri il successo di Cannibal FI i colori del signor Salvatore Varisco per il training di Giovanni La Rosa Angelo Basso Junior in sul che ha figlio di Norton Hans al secondo posto l'1 di Zolder Op al terzo e il 2 di Verdi Prav 6-1-2 e l'ordine arrivo della quarta da Siracusa 2.72 in chiusura anzi 2.29 la quota del chiacchieratissimo Enzo del Ronco 100 metri allo stacco della macchina si parte parte bene Enzo Deventi a largo estasi Enzo del Ronco a largo estasi Deventi di dentro Elvi Daniel i tre più veloci numero 8 squalificato 200 metri iniziali in 14.2 con Enzo De Ronco che resta davanti su estasi Deventi in terza posizione Elvi Daniel quindi in quarta posizione Esplosive Griff 30 per i primi 400 metri prova a graduare Luciano Messineo con Enzo De Ronco esasi lo segue da vicino precedere Elvi Daniel è andata a tabellone Ecar Alor rallenta il ritmo alla gara tanto che i 600 metri si vanno in 46 adesso c'è l'allungo di Ernest Font con Enzo De Ronco che aumenta i colpi della sua andatura tant'è vero che la frazione si copre in 14 abbondanti e si arriva agli 800 metri in un minuto secco sempre terzo alla corda il numero 5 di estasi Deventi il chilometro se ne va il numero svelto 1 15 17 a largo ci prova adesso Esplosive Griff siamo ai 1200 metri i cavalli vanno sulla retta opposta all'arrivo con Enzo De Ronco in continuo a lungo ancora una frazione in 15 1 30 e mezzo Ernest Font resta secondo davanti a Elvi Daniel estasi Deventi Esplosive Griff alla corda provano a largo invece Edgard SM ed Elfin Magik 1.4 in 1 e 46 15 e mezzo di frazione con Enzo De Ronco messo sotto pressione adesso da Ernest Font dietro la pariglia estasi Deventi Edgard SM che muove anche in terza ruota i 1.6 in 2 1.5 con Ernest Font che mette a dura prova la resistenza di Enzo De Ronco poi Edgard SM ed estasi Deventi a seguire da vicino poi il gruppo che si va sgranando siamo all'ingresso della lettura arrivo con Ernest Font che attacca e passa Enzo De Ronco e deve pararsi dall'affondo di Edgard SM con Elfin Magik ed estasi 20 che si portano al centro della pista sul calante Enzo De Ronco Ernest è attaccato da Edgard SM che tende a passare ai 200 finali Edgard SM passa su Ernest Font e va la via verso il traguardo Edgard SM a segno su Ernest Font quindi estasi Deventi Elfin Magik Ed Enzo De Ronco qualcosa meno di 2,47 siamo nell'ordine l'1,156 su 2,200 metri prestazione davvero notevole del portacolore del signor Antonio Marchese il training è quello di Gaspar Lo Verde Junior figlio di prodigio su 2,200 metri percorsi da 1,156 mettono a dura prova la resistenza gli avversari tra quali Ernest Font riesce a mantenere il secondo posto su Estasi Deventi che è terza quindi 6,3,5 è l'arrivo della quinta da Siracusa 7 Calis LL Dario Di Maio seconda fila con Dado De Ronco Luciano Messineo Conquista Robì Massimo Zanca Visserrod Gaetano Cordova Calmi TC Alberto Zanca in chiusura a favori per Dado De Ronco 3,06 si parte gran lancio dall'esterno di Calis LL che poco è battuto prende l'iniziativa su Zippo B terza posizione detto fatto a largo avanza subito Colmi TC seguito da Bristol Holm resta lontano Alba dell'Est che ha galoppato prima dello stacco si affronta la prima curva dopo un lancio in 14,2 400 metri in 32 in rallentamento con Calis Zippo Colmi TC detto fatto DL Tab orcaf nelle prime posizioni adesso lo scatto al centro della pista del numero 9 Conquista Dorbì che si porta ai fianchi di Zippo e punta su Calis LL 45,9 di 600 metri iniziali Forza ai tempi Conquista su Calis in terza ruota Bristol Holm aumenta il ritmo si arriva al mezzo miglio in 1,1 7 con una terziglia davanti ovvero Calis Conquista Bristol Holm dietro Zippo B Colmi TC e Dad del Ronco chilometro in 1,15 9 posizione che sono sempre immutate con Calis Conquista Bristol l'interziglia dentro Zippo B senza spazio Bristol Holm Tab Corcuff e Dad del Ronco al centro della pista senza spazio detto fatto si entra addirittura arrivo con Calis che non allunga mai si porta tutti a spasso c'è Mucchio selvaggio alle sue spalle con adesso l'allungo Conquista lo resiste a largo avanza bene anche Calmi a TC Zippo B che non riesce a ingambarsi di dentro va detto fatto è un discorso a due tra Calis LL e Conquista d'Orbi che lottano testa a testa è sul palo Conquista d'Orbi va a segno su Calis LL Zippo B Calmi TTC successo di Conquista d'Orbi partenza d'arrivo aria in faccia per i portacolori del signor Maurizio Cucinotta il training è quello di Giuseppe Zanca Massimo Zanca alla guida sul fio di Donata Nover al secondo posto e 7 di Calis LL precede il 3 di Zippo B 9 7 3 l'arrivo della sesta da Siracusa Favori per Doncaster 2,78 la sua quota contro favorito dal totalizzatore Demos del Ciceo 3,91 parte comodo Gettro Royale si parte di galoppo anche dei girl front lottano Desert Storm Fem con all'interno Caterina FC al lago di tutti Clipper Gams che si fionga sui due numero 3 14,1 di lancio con Clipper che sfila al comando su Caterina FC resta a largo così Desert Storm ferm alla corda De Mostene con a largo Chanel De Colli 400 metri in 28 spaccati Clipper Gams leader alle sue spalle la coppia Caterina Desert Storm quella formata da De Mostene e Demos del Ciceo piuttosto veloce dalla seconda fila 43,1 per i primi 600 metri prosegue la macchina di Clipper Gams numero 9 squalificato sia Dorian Gray che Jet Royale nel frattempo si arriva a metà gara in 50 59 e 4 Clipper Gams prosegue nella sua corsa avanti tutta alle sue spalle numero 8 squalificato gli avversari si ricompattano con lo scatto di Don Caster quello ancora più a largo di De Most del Ciceo adesso a fondo ai colpi invece Chanel De Colli che si è liberato dalla seconda paria attacca e passa sul calo di Clipper al suo eseguimento Don Caster e De Most del Ciceo gli altri restano un po' indietro prova la difesa Chanel De Colli preda ai 200 finali di Don Caster e di De Most e Ciceo e 3 a lottare la corsa con Don Caster che passa su Chanel che cala un attimo lo scatto di De Most e Ciceo ancora più a largo ma Don Caster e Andrea Buzitta tengono tutti fuori alla sua portata al quarto posto conclude il numero uno di De Most 1 e 58 un filo scasso siamo nell'ordine dell'1 13 e 6 successo di Don Caster colori del signor Andrea Sessa per il training di Alessio Di Chiara Andrea Buzitta che non ha sbagliato nulla in questa corsa di usura al secondo posto termina il numero 12 di De Most del Ciceo che relega al terzo Chanel De Colli quindi 11 12 10 è l'arrivo soltanto ufficioso comunque della settima e conclusiva corsa